Buonasera, mi sembra giusto e doveroso, la Pasqua si avvicina ma non solo per la Pasqua, mi sembra giusto che siamo arrivati al momento dei ringraziamenti. Il perché degli occhiali perché fa più scena. Ringrazio i miei amici tutti, la mia società sportiva, il mio preparatore che grazie a lui sono riuscito a fare tutte quante le gare sotto, il mio massaggiatore, il mio fisioterapista, il mio dietologo, il mio stilista, il mio costumista, gli sponsor tutti, il mio ginecologo, il truccatore, il mio analista, per la pazienza che ha avuto e nonostante tutto non ha fatto un buon lavoro e poi come non dimenticare il mio amico trans per la spinta da dietro che mi ha dato in questi anni e l'appoggio che è sempre pronto a darmi. Quindi spero di non aver dimenticato nessuno. Grazie, grazie, grazie a tutti.